Se il riempimento fosse abbassato al 50%, sicuramente la nostra azienda, ma credo tutte le aziende del trasporto pubblico, sono impossibilitate a garantire una regolarità di servizio e portare i ragazzi a scuola, come stiamo facendo in questo momento. Il servizio di trasporto pubblico potrebbe andare in default, qualora il Governo decidesse di abbassare ulteriormente la capienza massima negli autobus dall'80% attuali al 50%. È stato il tema sul tavolo di discussione tra Governo e Regioni per tutta la giornata. Il trasporto pubblico, autobus, corriere e treni, identificato come uno dei veicoli del coronavirus. Con le Regioni veneto in testa a cercare di spostare l'attenzione dai mezzi agli studenti, con la possibilità così di sfoltire il numero di utenti negli autobus con ingressi scaglionati a scuola o didattica a distanza alternata. Io mi auguro che venga deciso una differenziazione delle entrate per quanto riguarda gli istituti. Con il lockdown, MoMA ha contato una perdita in termini di ricavi pari a 5 milioni di euro. Per ripartire il 14 settembre in sicurezza ha dovuto fare uno sforzo quasi titanico. Per quanto riguarda l'urbano abbiamo oltre 1500 km in più giorno, per l'esturbano circa 3600 km in più giorno. Questo vuol dire che a livello mensile le nostre percorrenze rispetto all'anno scorso sono aumentate di 132.000 km che rapportati all'anno, quindi scolastico, sono oltre 1.500.000 km in più. Numeri impressionanti con costi che superano i 217.000 euro al mese. La CGL per gestire un ulteriore sforzo in più che il Governo potrebbe chiedere alle aziende di trasporto oggi ha lanciato una proposta. Ci sono un sacco di società di pullman, di corriere che fanno i settori privati, le famose gite e quant'altro, che sono tutte ferme a causa del Covid e quindi sarebbe sufficiente fare una convenzione con queste società private in modo tale che dietro ogni autobus che porti i ragazzi a scuola ci sia un pullman di una di queste società private, quindi diminuiamo l'affollamento, usa gli stessi orari, le stesse fermate e evitiamo quegli assembramenti che oggettivamente sono pericolosi.